Ben trovati da Tg della mobilità. Domenica dalle prime ore del mattino e sino alle 15.30 in programma la mezza maratona Roma-Ostia lungo la Colombo. La partenza è prevista all'euro altezza palalottomatica, l'arrivo alla rotonda. Chiusure al traffico e deviazioni e limitazioni per 27 linee di bus. Cantieri stanotte dalle 21 alle 5 per i lavori in via del Tritone. Chiusura straordinaria da piazza San Claudio a largo del Tritone. Deviate 11 linee comprese le notturne N5, N90, N543. È tutto per questa edizione.